Basta, basta, mi sono scocciato, la gente dice a te non ti va mai bene nulla, che ho dimostrato che non è così, ma a voi vi va bene tutto, e questo è il problema, perché qua ci stanno pigliando in giro, e adesso ci arrivo ragazzi, quindi mi raccomando, ascoltate bene questo video perché ci tengo tantissimo, perché le prese in giro e tutte le bugie che hanno detto in questo periodo, adesso ve le smonto in questo video. Ma prima di cominciare, come al solito, vi invito a lasciare un like per sostenere il canale, mi raccomando, e se non siete iscritti al canale, cosa state aspettando, mi raccomando, iscrivetevi. Oggi, signori, vi parlo di qualcosa di molto importante, ma soprattutto di molto utile per chi gioca al fantacalcio, e io lo so che tra di voi ci sono tantissimi appassionati del fantacalcio. Vi parlo di fantamaster, che cambierà completamente la vostra gestione del fantacalcio, vi troverete molto più rilassati nel giocarlo, perché vi aiuterà tantissimo. Partendo dall'asta, che è sempre un casino, non si trovano le cose, ecco, con fantamaster avete la gestione di tutte le fasi dell'asta, quindi potete stare tranquilli. Poi troverete tutte le statistiche avanzate e passate di ogni calciatore, cioè la shot map, l'assist map anche, cioè da dove fanno gli assist, se è un calciatore che tira da dentro l'aria, se è un calciatore fuori bravo con i tiri da fuori aria. Troverete tutto quello che vi serve sapere su ogni calciatore. Incluso avrete anche l'algoritmo di ultima generazione, che guarderà la vostra rosa, la metterà in paragone con il vostro regolamento del vostro fantacalcio, e ogni settimana vi consiglierà il modulo giusto da utilizzare, e anche i giocatori da schierare, quindi vi fa anche la formazione migliore. Cioè, ragazzi, veramente nel relax totale, se avete qualche dubbio, fantamaster ve lo risolve, perché dite, oh, chi metto questo questo, loro statisticamente vi dicono chi sarà meglio mettere in quella giornata con i bonus e malus che avete nel vostro fanta. Quindi, ragazzi, il sogno veramente di tutti. E in più lo troverete come il tool più basso che c'è sul mercato, veramente. 9,90€ con il codice FMFriends. Ragazzi, cosa state aspettando? Ve lo lascio in descrizione e con il codice coupon potrete anche prendere il bundle master più il toll. Quindi, cosa state aspettando? Se fate il fantacalcio non potete non averlo. Vi lascio il link in descrizione, dai. Ok, allora, capiamoci. Comanda Fonseca o non comanda Fonseca? Perché ogni acquisto viene sempre associato al nome di Fonseca? Eh, prendono Emerson Royale? Eh, vabbè, ma lo vuole Fonseca. E quindi un tifoso cosa può dire? L'allenatore è quello che comanda, è quello che si prende le responsabilità. Se sto Emerson Royale lo vuole Fonseca, dateli Emerson Royale. E Abram non lo vuole nessuno nel Milan, nessuno. Eh, ma lo vuole Fonseca. Ok, va bene, lo vuole Fonseca. E dateli Abram. E allora ogni volta che c'è un calciatore, beh, lo vuole Fonseca. Viene data, scaricata tutta la colpa su Fonseca. Quindi è come se Fonseca avesse voce in capitolo. È come se Fonseca può decidere chi dovrebbe acquistare il Milan. Poi, l'unica cosa reale, un'intervista in cui Fonseca toglie Salme Kers dal mercato, dice che un giocatore come Salme Kers lo vorrebbe in rosa perché è utilissimo. Chiunque vorrebbe Salme Kers nella sua rosa perché un giocatore è un giocatore che si adatta, è un giocatore che si impegna, è un giocatore che l'ha convinto. Quindi tutti i titoloni dei giornali, Salme Kers fuori dal mercato perché l'ha detto Fonseca. Poi la notizia della giornata è che il Milan non ha detto che Salme Kers è incedibile. Con un'offerta giusta Salme Kers può partire. Cioè, il Milan non lo svende a 10-12 milioni come si diceva, ma se arrivano offerte sopra i 15 milioni il Milan le può prendere in considerazione. Ma scusa, ma quindi stai smentendo completamente il tuo allenatore? Stai facendo capire che il tuo allenatore non conta nulla? Quindi quando viene detto Emerson Royale lo vuole Fonseca, Abra lo vuole Fonseca, sono tutte cavolate. Allora ci state prendendo in giro, Fonseca non conta nulla come quando dice Salme Kers non lo vendo e la squadra te lo mette sul mercato il giorno dopo. Però adesso che comunque non lo vogliamo svendere, però se arriva l'offerta giusta lo vendiamo, se arriva la contropartita per Abra non lo mettiamo Salme Kers. Allora ditemi, quanto conta la parola di Fonseca in questo Milan? Perché a me sembra una bella presa in giro. Per me la parola di Fonseca conta meno di uno nel Milan, ok? E Fonseca in questo momento è veramente l'unico non colpevole della società. Cioè è l'unico dalla punta della dirigenza alla punta della società sono tutti colpevoli. Tranne Fonseca che è l'unico che si è messo a disposizione e che sta lavorando. Sta lavorando! Non gli altri che dicono lavoriamo duro a bugia. Stanno in vacanza, non stanno a fare niente, non riescono neanche a fare le cessioni. C'è una cosa fondamentale che viene sottovalutata nel Milan. Manca un direttore sportivo e lo stiamo vedendo. Le strategie di mercato sono folli. Hanno cercato di inventarsi la superoperazione Morata. L'abbiamo strappata l'Atletico Madrid. L'Atletico Madrid adesso sta rosicando e quindi sta cercando di... L'Atletico Madrid non se ne fregava nulla di Morata. Anzi, le ha fatto quasi un favore a liberarsi di Morata. Se l'Atletico Madrid voleva tenersi Morata se lo sarebbe tenuto. Quindi basta con queste cavolate. Dove sono le cessioni del Milan? Perché non si cede Pobega che è un giocatore che non giocherà mai? Perché non vengono ceduti i giocatori che non fanno parte del progetto? E si parla addirittura di cessione di Ben Nasser. Sapete perché vorrebbero vendere Ben Nasser? Lo sapete perché? Perché Ben Nasser ha uno stipendio alto. E loro già devono rinnovare adesso Teo, Magnano e quindi non vogliono spendere troppo di stipendi. Perché devono vincere il trofeo del bilancio. Ben Nasser è sacrificabile. Perché Ben Nasser ha uno stipendio alto. E poi mi parlate di Fofanà. È fondamentale per il centrocampo del Milan quando vuoi andare a vendere Ben Nasser. Cioè secondo voi realmente Fofanà può essere più importante di Ben Nasser nel centrocampo del Milan? Cioè ma stiamo veramente scherzando? Per non parlare poi dell'operazione Fofanà del... Vabbè ma aspettiamo. Allora, prima le operazioni di mercato si fanno marzo-aprile. Tu già devi lavorare. Già devi avere i nomi. Già devi avere mezzi, contratti firmati, opzionali e cose varie. Ma va bene, mi sono sentito dire. Sì vabbè ma non siamo manco a luglio. Il mercato in realtà deve ancora cominciare e ti stai agitando per nulla. Ok. È arrivato luglio. È passato tutto luglio. Sei riuscito a comprare morata. Quando hai parlato del... Il mercato del Milan sarà tutto incentrato sul centravanti. Prenderemo il centravanti dei prossimi anni. Abbiamo preso l'allenatore non di top class. Ma abbiamo preso l'allenatore che è bravo a lavorare con i giovani. Compri Fonseca. Ok Gigi. E compri morata. Perfetto. Giovanissimo. Quindi tutto l'attacco del Milan. 55 milioni pronti per Zirze. Ma ragazzi Zirze non lo stiamo comprando solo per le commissioni. Ma il Milan con i 55 milioni ce l'ha belli pronti da cacciare. In più dovevano dare un contratto a Zirze di 4-4,5 milioni. Mi spiegate dove sono finiti questi soldi? Mi spiegate la conferenza stampa di Brevici in cui dice Ragazzi noi siamo a posto così. Non abbiamo bisogno di vendere nessuno. Possiamo fare mercato tranquillamente. Si parla addirittura di un budget di 100 milioni di euro che non sono neanche tanti per una squadra come il Milan. Un budget di 100 milioni di euro. E adesso si arriva al... Eh ma se non parte Adlie non possiamo prendere il centrocampista. Eh ma se non va via quello non possiamo prendere quello. Cioè siamo tornati ai tempi di Gagliani. Gli ultimi anni in cui se non parte nessuno non arriva nessuno. Quando ci avete detto che tranquillamente il Milan poteva far mercato. Dovete dar via gli esuberi. Non i giocatori che servono. Cioè qua si parla di Salme Kierz, Okafor, Ben Asser, Adli. Tutti i calciatori utili per il Milan. Ma non si parla mai degli esuberi. Non si parla mai di cedere qualcuno che non serva a niente. Non si parla mai di giocatori che sono completamente fuori da ogni tipo di modulo e di scelta per Fonseca. No. Si parla sempre dei giocatori che potrebbero essere utili. Perché? Perché sono quelli che ti richiedono. Perché è difficile andare a vendere qualcuno che non ti chiedono. È lì la bravura del direttore sportivo. Il direttore sportivo non solo deve capirne di calcio. E quando dici il direttore sportivo è bravo perché ne capisce di calcio. sa trovare i talenti. No. Il direttore sportivo ha la caratteristica numero uno che deve avere. Deve avere l'intra al Lazzi. Deve conoscere i procuratori. Deve avere una carreggiata preferenziale per i procuratori. Cioè il procuratore di un giocatore deve sapere che trattare con quel DS in futuro poi gli porterà qualcosa. E questo un bravo DS. E noi non ce l'abbiamo. Ecco perché non riusciamo a cedere. Non riusciamo a comprare. Cosa abbiamo comprato fino ad adesso? Siamo arrivati il 6 agosto. Tra una settimana inizia il campionato. Tra dieci giorni inizia il campionato. Mi spiegate con quale squadra... Cioè con chi dobbiamo giocare? Con chi? Che i giocatori manco li conosce Fonseca. Quelli che arriveranno arriveranno dopo il campionato. Eh ma per Fofanà si aspetta perché ormai abbiamo il sì del giocatore. Ma Taremi non vi ricorda nulla? Oh ma state tranquilli. È sicuro l'accordo con Fofanà? È sicuro. Ah io mi ricordo anche che era sicuro l'accordo con Taremi. Siamo arrivati all'ultimo giorno di mercato. Cioè volete veramente questo? Arrivare di nuovo all'ultimo giorno perché dovete cercare di prendere l'occasione? Cioè il Milan è questo? Il Milan è questo? Al massimo puoi prendere gli esuberi come occasione nel mercato finale. Ma il vice attaccante deve essere un'occasione. Il mediano che lo stanno puntando da inizio mercato deve essere un'occasione. Cioè capite che non si lavora bene ragazzi. Non si lavora bene. Non si lavora. Serve un DS. Serve qualcuno che sappia vendere i giocatori. Cioè abbiamo perso giocatori come Daniel Maldini che va a giocare in Serie A a quattro spicci. Simic a quattro spicci. Cioè non sappiamo manco vendere. Giocatori in rosa che stanno lì ad ammuffire e non servono a nulla e non riescono a darli. Cercano ogni volta di inserire qualche contropartita ma se le altre squadre non le vogliono le contropartite basta. Ci hanno fatto credere che l'Udinese chiedeva contropartite su contropartite. Poi esce l'articolo finale. L'Udinese vuole 20 milioni. Non accetta contropartite per Samarsic. E allora queste contropartite chi le voleva? Chi le voleva? Le voleva mettere il mina. Perché non riescono a cedere i giocatori e cercano di infilare le contropartite. L'unico giocatore che realmente dovresti aspettare che è quello Abram. Perché è un giocatore che non dovresti manco spendere un centesimo. Aspetti gli ultimi giorni di mercato. Se la Roma ce l'ha ancora sul gruppone te lo prendi con un diritto di riscatto e l'hai chiusa lì. E ti tieni Jovic in rosa. Non se viene Abram parte Jovic. E se non parte lì non viene... Oh ma questa presa in giro basta. Basta. Che per adesso ripeto l'unico che sta meritando fiducia è Fonseca. Cioè è incredibile. È quello più approssimato. Quello che nessuno voleva. È quello che sta dando un po' di fiducia a quest'ambiente. Grazie anche ai risultati inutili delle amichevoli che la gente si è gasata. E va bene così. Preferisco di più avere un ambiente gasato che avere un ambiente tossico in cui già partivano i Fonseca Out. Ste vittorie non pensate che siano inutili. Perché ste vittorie hanno bloccato i Fonseca Out, le contestazioni e tutto quanto. Ma poi alla fine dall'altra parte c'è il demerito, no? All'altra parte la medaglia. E che adesso a nessuno sta fregando nulla del mercato. Sembra come se al Milan andasse bene così. Cioè Fofanà. Cioè Fofanà in scadenza di contratto è così difficile da comprare. Cioè seriamente voi vi reputate dei dirigenti validi e non riuscite a comprare un Fofanà dal Monaco? Che vuole venire al Milan e già ti ha detto sì? Ha riputato anche altre squadre per te? E tu stai lì a temporeggiare, a temporeggiare, a temporeggiare finché succederà qualcosa. Arriverà una squadra, darà una barca di soldi a Fofanà e sarà finito. Cioè ancora state lì a credere? Eh no ma ci hanno d'accordo quindi possiamo stare tranquilli, possiamo andare con calma. O non è meglio comprare il giocatore, portarlo a Milanello, farlo allenare, farlo ambientare? Pensate che partire bene nel campionato non sia fondamentale? Cioè pensate realmente che Fonseca possa partire così allo sbaraglio, prendersi tutte le colpe? E no belli miei, perché qui ripeto se c'è qualcuno che sta meritando un po' di fiducia è proprio Fonseca. E tutto il resto che non merita fiducia. Le parole di Ibrahimovic valgono zero, le parole di Furlani valgono zero, le parole di Cardinale valgono zero. L'unico in questo momento che merita rispetto è davvero Fonseca, perché è l'unico in questa società che sta lavorando. E basta con queste prese per il culo, eh ma c'è tempo. Ma questi arriveranno il 28 agosto, eh ma c'è tempo, ma c'è tempo. Per arrivare all'ultimo giorno di mercato e chiamare Iovic che stava in albergo e stava dormendo. Questa è la strategia del Milan. Gli acquisti si fanno prima per poi portarli a Milanello, farli allenare, farli ambientare. Non che li prendi in modo, devono fare un mese con la squadra e quando ce li avremo pronti? Le prime giornate di campionato come le facciamo? Dobbiamo arrivare di nuovo al derby così allo sbaraglio? Eh no ragazzi, no. Perché poi la colpa la daranno tutta a Fonseca, eh Fonseca qua, Fonseca là.